e salva a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video tutorial microsoft edge se messo a paragone con altri browser è sicuramente quello più scattante a caricare le varie pagine web questo accade perché è integrato in windows 10 ed è perfettamente ottimizzato per funzionare su di esso i recenti aggiornamenti rilasciati dalla microsoft hanno aggiunto a questo browser non solo le schede verticali ma anche alcune funzioni nascoste queste vi consentono di velocizzare microsoft edge al massimo garantendovi un avvio rapido e un caricamento delle pagine immediato molti di voi si staranno chiedendo se abilitando queste funzioni nascoste si avrà un maggior consumo di risorse gravando sulle prestazioni del computer la risposta è assolutamente no anzi al contrario si velocizzerà l'intera navigazione facendovi risparmiare un sacco di memoria utile sicuramente per altri processi per accedere a queste funzioni è necessario ovviamente aprire il browser cliccare sui tre puntini in alto a destra precisamente sotto la x e dal menu a tendina scegliere l'opzione impostazioni sulla sinistra saranno presenti diverse voci clicca su sistema la prima funzione da abilitare si chiama potenziamento all'avvio questa funzione una volta abilitata serva ad avviare il browser il più veloce possibile precaricando il servizio in background all'avvio del computer inoltre quando chiuderete il browser questo rimarrà in esecuzione in background rendendolo subito disponibile nel momento in cui vi servirà e vorrete riavviarlo la seconda funzione da abilitare è situata un po più in basso ed è chiamato risparmio di risorse come quasi tutti sappiamo ogni pagina o applicazione aperta consuma una certa quantità di memoria abilitando questa funzione le schede inattive andranno in sospensione dopo un determinato lasso di tempo che puoi ovviamente specificare al fine di risparmiare più risorse possibili in parole povere se voi state guardando un video su youtube e allo stesso tempo avete facebook aperto dopo un tot di tempo da voi specificato la pagina facebook andrà in sospensione ovviamente appena si cliccherà su una scheda che è andata in sospensione quest'ultima verrà ricaricata in automatico tornando nuovamente attiva e pronta all'uso questo tipo di ottimizzazione disponibile anche su google chrome funziona veramente molto bene quando sono in esecuzione molte schede aperte su un pc con meno di 8 gb di ram è possibile vedere la lista completa delle schede aperte con i vari dettagli dei siti caricati digitando nella barra di ricerca questo indirizzo qui detto ciò ragazzi vi ricordo che per qualsiasi dubbio o incertezza non dimenticate che ci potete contattare attraverso i nostri gruppi ufficiali potete farlo sia tramite il nostro gruppo facebook e con gli altri gruppi social a nostra disposizione come ad esempio il nostro gruppo telegram se vuoi rimanere sempre aggiornato unisciti al nostro canale telegram e seguici su instagram vi invito inoltre a lasciare un bel mi piace al video commentare se qualcosa non vi è chiaro e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presente lì di fianco così da non perdervi i miei prossimi video con questo il video giunto al termine ci vediamo ad un prossimo video ciao